Il pugilato è tornato a Milano dove si è svolta nel weekend la sesta edizione del trofeo Milano Ottavio Tazzi, il ricordo del grande maestro di box, una figura carismatica che ha dato lustro al mondo del pugilato ed ha saputo trasformare semplici ragazzi in formidabili atleti e campioni del mondo. L'obiettivo della serata era quello di raccontare e far rivivere i valori e gli insegnamenti del maestro Tazzi coinvolgendo molte giovani promesse della box. Siamo riusciti ad organizzare nuovamente questo evento che è un evento che vuole ricordare il nostro maestro Ottavio Tazzi e come vogliamo sempre noi vogliamo creare una situazione che sia unica, quindi non un semplice ricordo facendo una semplice riunione ma creando uno spettacolo a tutto tondo. Un evento aperto a tutti, molte le famiglie con bambini e oltre agli incontri tante anche le esibizioni come ad esempio la cerimonia del peso che come accade nei grandi eventi pugilistici americani è stata aperta al pubblico. Gli atleti infatti dopo essere saliti sulla bilancia si sono prestati alle foto di rito e poi hanno incrociato lo sguardo degli sfidanti. A contendersi la prestigiosa cintura del trofeo Ottavio Tazzi, il team Italia contro il team Inghilterra, le cinture assegnate sono state quattro due alla squadra inglese e due alla squadra di casa, terminando perciò con un risultato di parità. Il programma pugilistico è proseguito poi con tre incontri professionistici che hanno visto la vittoria dei pugili di casa, Giuseppe Osnato e il due volte campione d'Italia, fate ben corichi. Ho combattuto nella cornice del torneo Ottavio Tazzi, organizzato appunto dalla stessa società. Ho disputato il mio sesto match, ho fatto sei riprese. Devo dire che è stato un bel match con un avversario abbastanza quotato a livello internazionale, veniva dalla Colombia con all'attivo già 20 match disputati e niente, soddisfatto comunque della prestazione, del risultato e ovviamente si cerca sempre di fare meglio e di lavorare sempre di più per arrivare a traguardi più alti.